Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Grazie Sì E' una cazzo Sì 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 L'ho chiuso la strada forse AHHHH Vedete vedete AHHHH AHHHH 357 357 Sali Sta scappando, sta scappando, sali, 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 tanto dove vuole andare con quel catorcio Guarda che neanche cammina Tanto scende e spara, ma è da solo? No, dimmi che non c'è la moto Disparo Fermo, fermo, fermo Scendi Scendi da qui, metti le mani in alto Mani in alto Get down on the ground Get down on the fucking ground Down on the fucking ground, sir Get down on the ground Down on the ground Get down on the fucking ground, sir I will shoot you Vuol dire questo? Yeah Don't worry Mike, voleva farlo il furbo Signore Ti ho tirato sotto la moto, neanche l'ho vista F per lui, poverino Io ho spammato un po' troppo, forse Se becco lo staff che cancella la chat Va farla apposta Franchi Trovami subito che cancella sta cassa De chat Subito al volo No, non ci credo Don't worry Don't worry Don't worry Don't worry Don't worry Don't worry Coglione Addio, Franchino, hai stato un piacere con oggi Don't worry Don't worry Don't worry Oh Oh No It's not No It's not I don't know I don't think neither But The first time as I tell before Someone shoot too also Yes 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 mai visto dove cazzo è sto server dove cazzo è sto server porco dio fammi quittare ragazzi fammi quittare sto cazzo di server vaffanculo a loro vaffanculo a loro porco dio fanculo a sto server di merda gestito da sti cazzo di pagliacci figli di troia andiamocene subito porco dio io mi devo fare mettere i piedi in testa da questi no 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 abbandonato ragazzi abbandonato ragazzi silenzio ma serve supporto o no fatto uno attacco fatto uno mi devo vendare mi sto vendando mi sto vendando fatto un altro easy nuovi clienti va buono e poi allora ne faccio chi aizen aizen non avvesse ieri ce lo siamo portati nel free rom fa paura aizen non avvesse come sempre aizen è fortissima aizen è fortissima aizen è fortissima va buono le nove le facciamo a 20 puliti 25 che due coglioni che due coglioni c'ho i coglioni e le ginocchia ragazzi c'ho i coglioni e le ginocchia porco dio su questo è guarda qua si dice taglio strada ah guardalo guardalo come è bravo e lui non è in radio con noi raga appena si girno mi alzo e me ne vado mi posso alzare e me ne vado mi posso alzare e me ne vado appena si girno t'ho dato tutto caro fermo fermo blizzate questo cazzo di edificio sto scappando blizzate destra destra ti stai fermo chi è che cazzo di farà fermo fermo chi è che ha sparato chi è che ha aperto il fuoco ragazzi chi è che sta sparando voglio un peccione sul tetto ma vediamo oddio vola si è un piccione ma è un impiccione o è piccione guarda roccio vola fagli vedere come voli uuuuuh ma che fa uuuuuh porca troia ma che fa uuuuuh porca troia nooo mi sei ho fatto buff raga per quanto forte uuuuh davanti davanti alla macchina guarda che macchina è quella grigia fra il deltone fra il deltone fra il deltone davanti davanti cazzo di marshal senti 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 sono un pochino arrabbiati eh si ragazzi secondo me raga talmente le azioni che perdono secondo me che capito ogni qualvolta succede qualcosa sono un cazzati neri capito ai ma che cazzo c'è uno zoo qua dentro Shi nooo mammae Manuela Filippo puttanaccia la miseria fai guidarmi per favore ovvero ma butati te quante pro la trovo Troppo, troppo Ora guido io, putta, guarda Puttaste quello col pisello Capisco, capisco, però le dico soltanto che È come se lei andasse in tribunale Andasse dal giudice e dicesse Lei è un coglione in un... Ma quello, scusami, quello si trattava Fuori RP Quello era riferito a Fuori RP Eh, che hanno licenziato Piros Una greba, abbiamo voluto questa, caro Allora, comunque, ti puoi stare Zitto tu, per favore, dammi la tua No, aspetta, ma arriva eccoci Ma che c'è in qua, il salone, che cazzo è Zio sta imparando la tecnica La parte più bella è quando mi abbasso, capito? Guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui Ecco, ecco Sto bene Beh, le faccio agitare e mi guarda cosa è successo Come vanno le cose agitare? Eh, bene Ti sei acceso una segretta? Sì, non posso fumare di macchina Dove sei? Non ti vedo Zitti, raga Raga, raga, stai a me, stai a me, stai a me Regà, 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 lo punto, lo punto Eh, c'è sotto i vestiti, raga, c'è sotto i vestiti Grazie Grazie